Massimo Bitonci, che cosa ne pensa dell'iniziativa del sindaco di Padova contro l'accattonaggio? C'è questa iniziativa da parte di più sindaci di tre province, tutti quanti di centro-sinistra, contro l'accattonaggio. Io penso che sia un'iniziativa molto tardiva, soprattutto per chi vive a Padova, sa benissimo che il centro, ma non solo, anche i quartieri in vaso di Zingari, di Roma, di accattoni molesti, perché questo è un accattonaggio di tipo molesto. Abbiamo fatto anche delle fotografie l'altro giorno, dimostrando che proprio di fianco all'ufficio del sindaco, pro sindaco di Padova, non eletto Rossi, ci sono degli accattoni, quindi è un annuncio, poi alla fine non c'è nessun tipo di controllo. La Polizia Municipale è passata di fianco e non sono andati neppure a chiedere le generalità. Quindi sono quelle cose spot che cercano di fare questi amministratori di centro-sinistra, che non si traducono in un'azione concreta. Invece per quanto riguarda Padova, ma non solo, noi le risposte ce le abbiamo. Bisogna approvare un'ordinanza sull'accattonaggio, bisogna andare a verificare posto per posto, bisogna che la Polizia Municipale sia presente nel territorio e non faccia solamente le multe, ma vada a controllare i documenti di queste persone e bisogna spedirli fuori dalla città. Una cosa che si può fare, noi assieme a questo per le elezioni di Padova proponiamo anche di cancellare i campi Rom che ci sono a Padova. Ce n'è uno in via Bassette, ma anche altri in quella zona. È stato anche proposto il raddoppio del campo Nomadi con una sovolazione di carattere popolare. Noi diciamo no a tutto questo buonismo e degrado che impera nella città di Padova. La nostra proposta è una proposta seria, una proposta attuabile che vogliamo portare avanti perché a Padova si chiede maggiore sicurezza e soprattutto tolleranza zero.